Ciao a tutti appassionati del fai-da-te! Io sono Mauro e questo è Zio Orso, il canale per i makers. In questo video costruirò un portapunte per il socio. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Dove peraltro si svolgerà uno dei prossimi video che faremo insieme, in collaborazione. Prima di lasciarvi alla realizzazione, volevo ricordarvi che se il canale vi interessa, potete seguirmi anche sui social, dove potete rimanere sempre aggiornati sulle novità del canale e su quello che succede nel mio laboratorio. Inoltre, se volete, potete anche supportare il canale. Ci sono diversi modi per farlo. Uno di questi sono delle piccole donazioni tramite Paypal. Inoltre, se avete bisogno di fare degli acquisti su Amazon, potete farlo passando per il mio link. In questo modo la vostra spesa ai tempi di spedizione non cambieranno, però il canale riceverà una piccola percentuale grazie al vostro gesto. Io stesso l'ho sperimentato facendo degli acquisti tramite il link di altri YouTuber. E l'ho fatto anche io tramite il canale del socio. Trovate tutte le informazioni giù in descrizione. Se il video ti piace, iscriviti al canale e clicca sulla campanellina per non perdere i prossimi video. Ti lascio in descrizione anche il link al video del concorso che ho fatto la settimana scorsa. Ci sono ancora pochi giorni per partecipare, quindi non perdertelo. Buona visione! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.